Ciao a tutti, allora video outfit perché ho preso questa nuova maglietta, una nuova collana da farvi vedere, un nuovo bracciale, insomma alcune cose nuove e quindi ho deciso di girare perché alla fine l'ho messo insieme così questo outfit, nel senso che ho affernato un po' le prime cose che avevo portata di mano però poi quando ho finito mi sembrava una figata e quindi ho detto faccio un video e allora che cosa dirvi, innanzitutto come avrete visto anche dal video precedente, quello del Cosmoprof, ho tagliato i capelli e quindi ho deciso di farli pari alla fine e non più con diciamo le punte perché rimanevano più vuote vedete che adesso è stato fatto sempre scalato ma è pari qua dietro l'effetto mi piace moltissimo e quindi li terrò così da ora in poi questa è una piega che mi è stata fatta addirittura venerdì ed è reduce quindi da due giorni di Cosmoprof ed è perfetta vedo che il taglio diciamo aiuta la piega a stare meglio su perché giustamente scalando i capelli ed essendo meno pesanti la piega boccolata rimane più carina ho un trucco semplicissimo che poi è quello che sto facendo da tipo due settimane ho un doratino, un marroncino sull'occhio, tanto mascara e poi rossetti accesi in questo caso ho il rossetto rosso red velvet di wet and wild poi per quanto riguarda le unghie ho uno smalto di Wicon che mi piace tantissimo che avevo fatto vedere nell'ultima haul che se non ho sbaglio ho messo qui eccolo qua il numero 108 che mi piace veramente da morire lo trovo bellissimo super elegante e poi cosine nuove, questo bracciale che è entrato a far parte della mia collezione di bracciali argentati non è d'argento è d'acciaio con la S che è stato preso nel negozio Sogno Blu Brescia scusate Sogno Blu Brescia di Brescia ma a me proprio l'ha regalato Giulia la proprietaria quindi ringrazio Giulia per questo bellissimo regalo che mi ha portato al cosmo proprio io l'avevo visto tra le cose che lei vende me ne ero innamorata e lei me lo ha regalato è stata gentilissima poi questa collana che invece mi è stata regalata da un'amica che me l'ha portata appunto da un viaggio come vedete è una sorta di simile Chanel perché ha la C, la H, poi ha la N e la L cioè ha le consonanti della lettera Chanel e dall'altra parte invece ha la scritta Coco eccola qua Coco ecco sarebbe carino anche da attaccare così come collana da attaccare alla maglietta stessa insomma ed è così lunga e alla fine ha la doppia C ecco così la vedete meglio perché bianco su bianco magari non la vedevate mi piace tantissimo questa collana di perle e l'abbinamento che ci ho fatto è vi abbasso la videocamera così lo vedete meglio questa magliettina di CVG Moda questo è un maglione che io ho messo sopra è una maglietta a maniche corte bella lunga che ha questa specie di fiocco in grograin che è appunto questo tessuto si chiama così questo nastro fatto così vedete ed è un nastrino che fa un fiocco qua lì c'è un po' la maglia sul fianco e fa un fiocco e il disegno è molto carino sono queste due modelle diciamo che hanno le orecchiette da Minnie poi c'è una scritta che onestamente non so neanche che cosa dica non l'ho guardato quindi lo leggerò insieme a voi quando riguarderò il video e niente dietro è tutta bianca e io ci ho messo sopra questo cardigan perché ancora non fa così caldo ovviamente per poter uscire in maniche corte cioè almeno non per me il mio fidanzato si è pazzo esce già in maniche corte ma io morirei di freddo quindi ho ripreso il motivo del fiocco che è qui l'ho ripreso a questa altezza tengo il cardigan un po' spostato sui lati perché questa cintura passa vedete qua dentro ha dei buchi il maglione la cintura passa qua sotto poi risbuca qua fuori di nuovo qui passa sotto e qua risbuca fuori quindi voi potete arricciare il cardigan e viene questo motivo dietro vedete un po' tondeggiante è stondato qua e potete fare questo fiocco a me piace tantissimo l'effetto diciamo diversi volumi dei due strati insomma l'arricciatura qua, l'arricciatura qua la ripresa del fiocco mi piace molto poi ho dei leggings che credo che siano di talli che in realtà voi non lo vedete ma hanno delle croci penso che non si veda hanno delle croci sempre nero su nero ma in un nero le croci sono di un nero più opaco non so se si riesce a cogliere intanto qua vedete del casino di busta di roba che devo farvi delle haul quindi c'è casino per quello e poi sotto ho messo i miei soliti anfibietti quelli che ormai vi stanno tipo uscendo dagli occhi che sono quelli di Alcott bla 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 che mi piacciono tantissimo che metto praticamente con tutto e che se volete vi faccio rivedere sono questi adesso non li indosso perché sono a casa insomma a casa non usiamo le scarpe ve l'avevo già raccontato quindi gli anfibietti sono questi qua e mi piace moltissimo e l'ha fatto anche Chanel quindi non è che io abbia scoperto l'acqua calda Chanel stessa aveva abbinato nelle ultime sfilate il tema un po' rock un po' bork un po' motociclista un po' maschiaccio al bon ton delle perle delle cosine un po' più diciamo ladylike più femminili ecco quindi il fatto di abbinare degli anfibi a un look molto più femminile mi piace moltissimo a completare l'outfit visto che oggi a Milano c'era una bellissima giornata ho questa specie di diciamo cappottino molto leggero in una sorta di lana sì è lana dovrebbe essere una sorta di maglia ma in realtà è così fitto che vedete sembra quasi un tessuto ecco con il collo così alla coreana perché ha il bottoncino ma io oggi lo portavo aperto lungo fino a metà coscia molto molto morbido quindi vedete mettendolo sopra rimane così proprio molto morbido molto informe non è un capo strutturato vedete lo tenete così molto molto morbido a completare il tutto avevo questa fracollina di chiara ispirazione chanellesca perché ovviamente non posseguo ancora una chanelle sapete che è in corso l'opera di desiderio chanelle se una persona non desidera qualcosa non si mette neanche in testa di acquistarla no? ecco io intanto la desidero poi vedremo nel futuro e niente quindi questo è quanto tracollina così anfibi l'insieme mi piace tantissimo e mi piace tantissimo anche il concetto di avere il trucco molto molto easy sugli occhi e il bel rossetto rosso mi richiama molto la il concetto di bon ton un po' rock mi piace insomma secondo me questi look vanno tantissimo col trucco semplice sugli occhi e il rossetto rosso è una mia idea e questo è quanto che dirvi avevo gli occhiali da sole in realtà avevo questi qua giusto per smorzare gli occhiali richiamano un po' il look delle scarpe avrei potuto mettere una cosa più bon ton il maxi occhialone nero insomma più scianelloso ma in realtà ho messo questi va bene basta questo era quanto io adesso mi cambio perché stasera il lunedì sera c'è la finale dell'isola dei famosi e quindi fra tipo dieci minuti devo aprire il solito post di commento sul mio gruppo quello che avevo aperto quando è iniziata l'isola dei famosi e che è andato alla grande grazie a tutte le ragazze anzi che hanno partecipato al gruppo Sparliamo dell'isola dei famosi perché non mi aspettavo tutto questo successo siamo tantissime e ogni volta che c'è la puntata ci sono veramente tipo più di mille commenti sotto il post tantissime ragazze partecipano e quindi niente vi volevo ringraziare perché è stata una cosa carina ci siamo ritrovati tutti i lunedì adesso chissà chi vincerà io tifo per le zonatella perché sono state veramente mitiche non se le cagava nessuno all'inizio nemmeno noi insomma si sono guadagnate la simpatia di tutte quando pubblicherò questo video sapremo già chi è il vincitore o la vincitrice o le vincitrici dell'isola dei famosi scrivetemi magari qua sotto per chi avete tifato voi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao